Centro Anch'io Centro Anch'io Rieccoci a Centro Anch'io, grazie per la vostra simpatia e la vostra amicizia All'interno della Pinacoteca Tosio Martinengo, bellissima, rinnovata, andate a visitarla C'è anche il Portarolo, questo dipinto di Giacomo Cerutti Cerutti conferisce al giovane protagonista una presenza incombente mentre cammina verso lo spettatore con vestiti umili e vecchi, sulle spalle reca un cesto contenente probabilmente delle uova e un foglio ripiegato, tutte le figure in secondo piano, una donna probabilmente cieca e uno storpio trascinato in un carretto si dirigono verso l'edificio sullo sfondo che è un ospizio Cerutti conferisce al giovane protagonista una presenza incombente mentre cammina verso il proverbio di oggi dedicato ai giardinieri e non solo, anche chi si cura del proprio cortile, del proprio giardino, la gramegna, la nasde per tutte, sì ma qual è il vero significato? Andiamo Valeria e Marco, simpaticissimi pisani, in vacanza a spasso qui nella nostra città, prima volta? Primaissima volta Mi piace, mi avete visitato un po' Pochissimo, siamo appena arrivati però molto bello Di torri storte non ne abbiamo però, tante cose storte insomma, cercandole si possono trovare Senti Marco, il nostro dialetto non è stortissimo però non è facilissimo, ahia, questa va è difficile, come faccio a interrogare Marco? La gramegna la nasde per tutte La gramegna nasce dappertutto? Ma tu sei sicuro di essere pisano? Ma ce l'abbiamo anche noi più o meno Sì? Sì, sì E come si dice in pisano? No, la gramegna nasce dappertutto Così, non c'è una cosa... I vecchi lo dicono più che altro, forse non è in dialetto Pisa poi non c'è un grandissimo Esatto, la culla è dell'italiano, non può avere il dialetto E questo, basta, mi ha strinato, il pisano mi ha fregato La gramegna, sì La gramegna nasce dappertutto Bravo Dappertutto Come dire, che purtroppo quando qualcosa, insomma, il brutto, le cose cattive Sì Ci sono un po' dappertutto Ci sono degli occhi aperti Va bene Enrico il ciclista, quanti chilometri abbiamo fatto oggi Enrico? Una cinquantina, una maddalena Poca roba Oh va, uno scherzetto Un scherzetto Sì Ma tu sei uno proprio di quali seri? No, faccio finta di essere serio Sabato, cento... 120, 130, 150 Al sabato? Al sabato Ma tutti i giorni bisogna uscire in estate in primavera? No, 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 il sabato bisogna uscire Però il sabato è un martedì e il giovedì al massimo, dai Altrimenti non siamo allenati, eh Difatti Senti, Henry, la gramegna nasce dappertutto È l'erba cattiva che cresce dappertutto Tu che sei appena sceso dalla maddalena di erba cattiva, ne hai vista? Sì, dai Non ti chiedo che erba conosci perché non vorrei... No, no, conosco l'erba cattiva Ha un nome? Eh, la son perdere La gramegna la nasce dappertutto Lo sanno bene i giardinieri, quelli che devono curare i giardini Chi ha l'erba è nel proprio parco Perché? Perché l'erba cattiva, la gramegna, nasce ovunque È difficile da estirpare Bene, oh, ci sono i ragazzini adesso Noi chiudiamo ma ci sono loro, li interroghiamo come sempre Perché sono sempre più simpatici e stanno raccogliendo tanto consenso Grazie a voi che ci seguite numerosi, alla prossima, ciao Ciao Marco, questa parola è un po' difficile La mosca relo, che cos'è secondo te? Ha a che fare con la mosca Bravissimo, ha a che fare con la mosca Ma la mosca ci deve entrare o deve stare fuori dalla mosca relo? Fuori Bravissimo, la mosca relo è la dispensa pensile con zanzariere Si usiamo una volta In casa tutta non ci sarà la mosca relo Centro Antio